Ciao ragazze e ragazze, purtroppo stavo facendo il tutorial all'occhi e vi avevo parlato dei miei prodotti e tutto, si è cancellato tutto, ho ricevuto una chiamata e insomma sono a metà. Allora, rincomincio dai prodotti che ho utilizzato, oggi diciamo che sono super luminosa perché non ho utilizzato il fondotinta ma ho utilizzato questo che avevo terminato l'altra volta di Kiko ed è top, vi avevo detto che ne avevo preso un altro, poi ho utilizzato questa che è bella luminosa come vi avevo detto, vedete? Più il prodotto di Kiko, blush e quindi ecco, poi vi volevo mostrare, allora questo di Cosmofile, acquistate sul sito di OVS, questi prodotti c'erano dentro, molto carini, allora c'è la tinta labbra che ho applicato ora e lucida labbra con la sua matitina, poi sempre da OVS della Revolution, guardate qua, che pucciosa sta palette, io adoro gli animali, si accantecate e tutto il resto, ma poi ho guardato la colorazione, come lasciarla? Si sa che Revolution è sopra pigmentata, vedete? Vedete? Poi, questi sono i prodotti contenuti, questa costa 6-8 euro, questa qui costa 19, ma ci sono due prodotti, più la matita, quindi è nella norma. La palette che costa, diciamo, è questa che per le prime volte passava dalla dogana, quindi andava in ritardo, eccetera, eccetera. Adesso invece da Cult Beauty l'ho acquistata, questa è la palette. Sembrano pochi, ma in realtà sono 12 colori, non 6, perché ogni cialda offre due colorazioni, quindi 12, molto pigmentata, eccetera. Io ho applicato questo per la prima volta con voi, lo stavo facendo, però portate pazienza. Questo con questo, poi ho applicato un pochino di questo, questo, stavo finendo, insomma. Questa è calcosa sui 60 euro, ma tutte le youtuber ne parlano così bene, mi piacevano i colori e ho voluto provarla. Allora, proseguo e applico ancora un pochino di questo, poi prendo questo scuro e lo applico qua. Sono molto scriventi, eh, molto pigmentati. È di un Makeup Artis, penso, famoso, eh. Non mi sono documentata tanto su quello, ma sui prodotti in se stesso, in quanto scrivente, in quanto formula top. C'è la mister Daniel, se guardate, se prendete nota di questa palette, e guardate i video tutorial, capite che... Ok. Prendo, con un pennellino, un'occhiaro. Andiamo con questa ci sono, poi ho appena steso, insomma, un po' di cose, ecco. Proviamo questi qua, chiari. E lo applico qui in mezzo. Faccio proprio così, che prendo un po' di schiaro, un po' più scuro. Non è brillante. Qua quello chiaro. Ecco, ora mettiamo la matita nera. Qua strano. Dentro l'occhio. La waterline. Vieni qui dentro l'occhio, volcarmente. Brutalmente. E poi, vado a prendere il liner. Br�op進 solo. Vieni qui. Vieni qui dentro. Vieni, vieni qui dentro. Vieni. Vieni la partita. Vieni qui dentro. Vieni che punto. Vieni qui dentro. Vieni questa. Vieni, vieni. si sa che a sabato sono proprio di corsa super dove andate in ferie quest'anno se posso chi vuole rispondere ecco allora prendo il mascara scusate e poi ci applichiamo un pochino di illuminante e il trucco è terminato così so che a molti non va ancora e me lo scrivo che non si mette qua ma a me piace e io lo continuo a mettere e blocco chi rompe mi spiace io faccio di testa mia come al solito vi mando un bacione grande e scusate per la velocità ciao